Per molti secoli, millenni, la pittura si è occupata di rappresentare il reale. A un certo punto innovazione tecnologica arriva alla fotografia e lì la pittura va in crisi. Che cosa succede? Allora i volti iniziano a scomporsi, a diventare delle macchie di colore e a questo punto la pittura si deve ridefinire. Noi adesso abbiamo dei fantastici musei in cui ci sono delle tele tagliate, ci sono macchie di colore, comuni di stracci, che sono delle opere d'arte che innanzitutto ci fanno pensare e poi soprattutto ci emozionano. Ecco, se io penso oggi che cos'è il teatro all'epoca della tv, del cinema, di internet, soprattutto deve essere questo, deve avere la forza di una tela tagliata, quindi deve essere come una rama di luce, un gesto.